Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attiene una mattinata di venerdì stabile ed assolata in Liguria. Maggiore nuvolosità dalle ore pomeridiane, venti in rinforzo, con mare fino a mosso. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'imperiese. Non mancheranno appunto delle schiarite nella prima parte della giornata. Maggiore nuvolosità poi dal pomeriggio, ma senza fenomeni associati e massimi intorno ai venti, ventitré gradi. In dettaglio sul Savonese, nubi alternate a schiarite con temperature massime che raggiungeranno i venti, ventitré gradi. Su Genova e dintorni al mattino non mancheranno delle schiarite con solo qualche innocuo annuvolamento di passaggio. Poi dalle ore pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità. Valori massimi anche qui fin verso i ventidue gradi. In dettaglio sul Tigulio, maggiore nuvolosità appunto nella seconda parte della giornata, ma senza fenomeni associati, temperature massime, anche qui fino ai ventidue gradi. E per quanto riguarda la situazione attesa sullo spezzino, al mattino nubi con qualche schiarita, e poi dal pomeriggio maggiore nuvolosità, temperature massime, non oltre i ventidue e ventitré gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa in Liguria. Per quanto riguarda il weekend, ci attenne un sabato nel complesso stabile ed assolato, con temperature massime nel complesso miti, valori fino ai ventiquattro gradi. Sole poi protagonista per la giornata di domenica. Si rinforza infatti l'anticiclone con temperature per lo più stabili. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.